Siamo pronti per una vittoria, ma quando ci occupano, è del bene, sicuramente difficile ma Grazie per la domanda per la battaglia di tutti, per questa gara uno che ha segnato la regola. Prima della palla come si avrà osservato un minuto di accoglimento, in memoria dell'ingegnero Bruno Viglio, c'ha un ingegnero che ha vinto a un più rito. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti